bentornati riprendiamo la nostra analisi della galleria filtri di photoshop e siamo arrivati alla terza riga per cui abbiamo l'effetto spatola un effetto che secondo me è molto interessante vediamo che cosa succede nel momento in cui portiamo tutto a zero fondamentalmente abbiamo recuperato l'immagine originale ora nel momento in cui andiamo ad aumentare la dimensione del tratto subito vediamo che portiamo fuori una consistenza che è quella che questo effetto vuole andare a riprodurre che è quella della spatola che ha dipinto su una superficie possiamo andare a aumentare i dettagli del tratto in questo modo recuperiamo un pochino le fattezze di quella che è la nostra foto originale possiamo anche andare ad agire sulla morbidezza per ammorbidire questa modifica di dettaglio del tratto che abbiamo fatto se aumentiamo ulteriormente la dimensione cominciamo ad andare verso un disegno un po più confuso un po meno fotografico che però secondo me è proprio lo scopo di questo filtro perché nel momento in cui io lo utilizzo in questo modo non è stato un gran cambiamento diciamo che fondamentalmente ho abbassato di parecchio la qualità della mia immagine mentre nel momento in cui vado a usarlo in maniera un po più intensa magari con un dettaglio un po minore con una morbidezza un po minori qui l'effetto diventa interessante perché ho questa questa consistenza quasi puntinata che rende particolare questo effetto e che posso usare per arricchire le mie immagini grazie 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 grazie